L'8 dicembre, il Movimento 5 Stelle ribadisce la sua linea, la decadenza poteva già essere votata 20 giorni fa, non sono tollerabili, ulteriori rinvii. Noi siamo per il rispetto della legge, la legge Severino prevede una decadenza immediata, sono passati più di 100 giorni da quando l'Aggiunta per le elezioni ha decretato la decadenza del senatore Berlusconi, abbiamo chiesto di calendarizzarlo già dal 5 novembre il 27, ormai è la data che è stata fissata dalla Capogruppo e la stiamo aspettando.